Sono molto soddisfatto perché oggi abbiamo posto fine a una grande giustizia che ha rappresentato tanti anni della nostra Repubblica. I cittadini e le cittadine sentivano in modo molto forte l'esigenza di porre fine ai vitalizi così come li abbiamo conosciuti, ai vitalizi degli ex parlamentari perché il punto di principio fondamentale è che oggi ripariamo finalmente all'ingiustizia sociale dove i parlamentari avevano un trattamento e i cittadini fuori avevano tutto un altro trattamento. Oggi ricongruiamo questo in nome della Repubblica Italiana e in nome di tutti i cittadini italiani. Non sono preoccupato, so che la delibera che ho scritto è una delibera forte, sostanziale e sostanziosa perché ripara delle ingiustizie e quando ripari ha delle ingiustizie per me è sempre la Costituzione come fare, per me dice che tutti i cittadini devono essere uguali e per me questa delibera rende tutti i cittadini uguali e perciò costituzionalmente parlando penso che sia proprio costituzionale.